Giornata importante, quella di oggi ad Anghiari, dove abbiamo inaugurato questa importante mostra con la collaborazione degli Uffizi e soprattutto un grazie alla Fondazione CR di Firenze, perché abbiamo in questi sostanzialmente due anni, in queste due mostre, abbiamo creato e abbiamo sperimentato un nuovo modo di fare museo, delle politiche museali, e abbiamo visto che nel contato, nel territorio, nei centri minori, in qualche modo si dà la possibilità ai piccoli omoni di interagire con la grande città. E noi abbiamo avuto in questi anni un aumento del 20, del 30% dei visitatori e lo abbiamo fatto grazie agli Uffizi diffusi, grazie al lavoro della Fondazione che, da questo punto di vista, patrocina questo evento anche da un punto di vista proprio di contributi nella comunicazione. Credo che sia un volano importante per tutti e anche un valore aggiunto per le territorio come il nostro. Poi l'elemento centrale quest'anno è il Papa Guerriero, in qualche modo il tema della battaglia con Anghiari è a fine e lo ricordiamo oggi, ancora oggi, i confini dell'attuale Toscana sono stati proprio disegnati da quella battaglia. Dunque un elemento importante, centrale, c'è una storiografia e su questo voglio ricordare anche la collaborazione ultima con l'Università di Napoli che ci permette anche di far conoscere una parte della storia, quella della guerra e darne anche una chiave di lettura diversa.